Leonardo Silva Revisore Wow! Immaginate un ragazzo di circa 17 anni seduto in fondo alla classe, svogliato, smagrito, inerte. Un tipo buono, ma che sembra indifferente al mondo che è attorno. Pare non rispondo agli stimoli, senza forza di volontà, senza desideri. Che ansia! Immaginate adesso di vederlo rientrare in classe triste, dopo l'ennesimo richiamo nello studio della preside che gli ha appena comunicato che se andrà avanti così sarà bocciato. Che angoscia! Immaginate adesso di essere il suo insegnante in piedi alla cattedra. Lo vedete rientrare in classe, triste. Cosa fate? Cosa dirgli? Come agireste? Non vi pare una bella sfida? Sentiamo tutti la sfida dell'ambiente, della sostenibilità, della cura del pianeta. Sentiamo la sfida della pandemia, della infodemia. Sentiamo la sfida della violenza, della guerra. Sentiamo la sfida del lavoro, delle preoccupazioni quotidiane, delle bollette. Ecco, oggi io vorrei parlarvi di una sfida che per me è la più decisiva tra tutte queste e che chiede la nostra attenzione. Si tratta della sfida dell'ecologia dell'umano, cioè dell'emergenza educativa, cioè della paideia integrale. Grazie. La sfida della paideia, che è una parola greca bellissima, integrale di uomini e donne che daranno realtà al futuro. Si tratta della sfida, cioè di far fiorire ogni adolescente. Sto parlando di quel miracolo che è il diventare se stesso, di ciascuno di noi, attraverso quel passaggio cruciale che è l'adolescenza, che io chiamo fioritura. Ma in cosa consiste questa fioritura? Voi, ciascuno di voi, quando ha compreso se stesso? Quando e come avete preso il vostro posto nel mondo? Io penso ad Andrea, che dicevo, ma penso a Valeria, che in terza, dopo un inaspettato crollo emotivo, grazie alla paziente e amorevole compagnia mia e di altri colleghi, è riuscita a rimettersi in cammino, a riprendere il lavoro, a studiare. E penso a Diego, che non so per quale motivo aveva scelto di farla finita con la scuola e aveva deciso di farsi bocciare. Lui, di fronte alla decisione inaspettata nostra di docenti e di promuoverlo con quattro debiti, di fronte a questa stima immeritata, questa possibilità che non si aspettava, ha deciso di rimettersi a studiare, ha passato i debiti, è diventato tra i migliori della classe per poi scegliere di diventare maestro elementare. e penso all'irruente Simone che all'inizio dell'anno, ripassando Platone in classe, primi giorni, dal fondo della classe alza la mano e dice prof, ma allora esistono le idee. Simone lì non era più un bambino, ma un soggetto che iniziava a concepire problemi di una portata universale. e poi penso a Luca, molto intelligente, ma anche molto disilluso, già cinico, che dopo quattro anni di scuola, quest'estate, grazie alla continua proposta di insegnanti e compagni, arriva a dire prof, non vedo l'ora di tornare in classe, di rimettermi al lavoro, perché ho capito che è bello accettare la sfida del diventare grande. ecco, di fronte a tutte queste sfide, difficoltà, complessità, quando ero un giovane insegnante, cioè pochissimo tempo fa, il mio maestro, il rettore della scuola dove insegnavo, mi sfidava chiedendomi ma tu, Marco, li educhi o li ecciti? una domanda inaggirabile per chiunque abbia dei figli o lavori nella scuola, una domanda che per me è diventata ancora più bruciante negli anni, trasformandosi in un'altra domanda, ma tu, Marco, li educhi o li eviti? per rispondere a queste terribili domande penso che sia importante farsene un'altra ma io, genitore, insegnante, educatore, che cosa ho da offrire loro di così essenziale da chiedere il loro tempo? perché i miei allievi dovrebbero starmi ad ascoltare? che cosa ho di così importante da dare loro da chiedere la loro attenzione? e ancora di più, che cosa c'è nella disciplina che insegno di così fondamentale da chiedere il loro impegno nello studio personale? ecco, dopo diversi anni di insegnamento e tre figli sulle spalle piccoli, ma tre, ho individuato due ingredienti fondamentali per la fioritura dell'adolescente e sono intelligenza e libertà il primo fiore dell'umano è l'intelligenza critica attenzione, per intelligenza intendo quella capacità di leggere dentro le cose intus, leggere e insieme la capacità di collegare ogni particolare alla totalità vedere forme, riconoscere relazioni ecco cosa è l'intelligenza l'intelligenza si muove lungo due canali si esprime cioè in due dimensioni che talvolta dimentichiamo il corpo e l'affetto e questo vale anche per i logici puri o per i più nerd tra gli informatici con tutto rispetto per gli informatici l'intelligenza si dà cioè sempre, sempre nel corpo in cui è incarnata tanto che il cervello arriva fin nelle mani l'intelligenza non è mai astratta dalla vita della nostra corporeità l'intelligenza poi è sempre affettiva legata cioè alla dimensione del sentimento, del cuore si conosce in fondo solo ciò che si ama ecco mani e cuore altrimenti l'intelligenza rimane rattrappita, impaurita, inerte grazie alla luce dell'intelligenza incarnata e affettiva possiamo finalmente vedere l'intero delle cose facendo attenzione nel presente a ciò che c'è secondo la totalità dei suoi aspetti senza visione dell'intero l'intelligenza si riduce a un freddo calcolo meccanico senza attenzione al presente l'intelligenza diventa miope e fa poi violenza alla realtà il secondo fiore che ho scoperto è la libertà la libertà certo come tutti immaginiamo capacità di effettuare una scelta ma per me più in profondità la libertà è quella originaria capacità di aderire all'essere di abbraccio a ciò che ho davanti la libertà come aspettare qualcosa che mi dia la felicità come il sentimento delle infinite possibilità la libertà ancora come capacità di agire di superare l'ostacolo, il limite aspirare all'infinito senza mai fermarsi a risposte parziali vivere nella libertà significa cercare ad ogni istante ciò che può soddisfare la nostra sete di felicità e nella libertà tutto torna al suo posto diritti e doveri giustizia e misericordia tornano amici l'uomo e quindi ogni adolescente ha queste due architravi in sé da riconoscere e da sviluppare pienamente intelligenza e libertà ecco vediamo tutti che intelligenza e libertà oggi si sviluppano in un tempo storico che sta cambiando radicalmente sotto i nostri occhi vorrei provare ad aiutarvi ricordandovi quelle che per Byung Chulano, un filosofo tedesco coreano sono gli aspetti propri del nostro tempo, della società e della cultura in cui viviamo noi e i giovani la performance come scopo dell'agire individuale la riduzione della persona a un soggetto di prestazione l'allontanamento e la messa al bando il più possibile del dolore e della negatività la digitalizzazione sempre maggiore dei modi di fare esperienza il primato del calcolo algoritmico sulla libertà individuale e la sostituzione del criterio di verità con quello di autodeterminazione assoluta, di visibilità, di successo sentiamo tutti che intelligenza e libertà non crescono meccanicamente mai soprattutto in un contesto come quello che ho appena descritto ci sono ostacoli di questa fioritura che vorrei provare a portarvi e offrirvi ostacoli che io ho scoperto nella mia esperienza a scuola e fuori dalla scuola ciò che impedisce la crescita di intelligenza e libertà è l'assenza di una proposta competente, appassionata, coinvolgente che mostri il senso di ciò che si fa che si debba spiegare ai ragazzi l'analisi logica a un problema di matematica o alla rivoluzione francese la proposta adeguata se chi la fa innanzitutto si è chiesto cosa centri quel contenuto con la realtà che senso abbia quel contenuto con la realtà che i ragazzi vivono e come sia possibile comunicarlo a loro in modo efficace ciò che ostacola l'intelligenza e la libertà è un modo di giudicare esclusivo, escludente e distanziante un modo di rapportarsi ai ragazzi fatto di alternative radicali imposte e non condivise nelle loro ragioni si deve, non si deve si fa, non si fa si può, non si può prendi, impara, devi farcela da solo oppure non ce la farai mai da solo non che non si debba dare loro indicazioni e regole ma farlo sempre condividendone le ragioni questi fattori io ho individuato che che rendono insignificante cioè senza intelligenza e senza libertà la relazione educativa un eccitamento senza ipotesi di significato un lavoro senza coinvolgimento e passione delle regole senza condivisione delle loro ragioni cosa invece ci permette di educarli davvero senza fermarci a eccitarli momentaneamente o a evitarli anche se con eleganza e apparente rispetto ecco cosa ho scoperto che favorisce l'intelligenza e la libertà dei ragazzi primo, la presenza di adulti che insieme facciano loro la proposta di un significato circa l'uomo e la realtà una proposta da verificare nel tempo che tocca insieme la mente, il cuore e le mani dalla conoscenza del passato al progetto fatto insieme in laboratorio all'uscita sulla neve fino al volontariato e poi aiutarli a scoprire criteri di giudizio radicati nel loro cuore per non lasciare i ragazzi alienati in balia delle prime impressioni della voglia, dell'istintività e poi mostrargli che ciò che conta nella vita lo sappiamo tutti è il percorso, sono le tappe del cammino e non soluzioni facili e immediate seminare, seminare, seminare senza pretendere che il raccolto venga con le nostre immagini con i nostri tempi e infine ciò che ritengo più importante la dimensione comunitaria dell'esistenza perché non ci si salva né si può crescere da soli applausi attenzione a questa chi vive da solo o è un animale selvatico o è un dio diceva Aristotele perché l'uomo è un animale costituito da relazioni ecco perché per educare ci vuole un villaggio possiamo allora aiutare i nostri giovani ponendogli domande destando le loro domande autentiche chi sono io? che cos'è la realtà? che cos'è la verità? che cos'è il bene? che cos'è la giustizia? che cos'è la bellezza? e perché si nasce? perché si nasce? perché si muore? aiutarli a trasformare i loro dubbi in domande qual è la mia passione? come posso essere utile per il mondo? come posso spendermi per qualcosa di più grande? così la vita diventa un'avventura un cammino fatto insieme a coloro a cui domandiamo domande che possano spalancargli e spalancarci un orizzonte infinito come infinito è il loro sé come infinito è il loro intimo desiderio i nodi in me, in noi si sciolgono quando sono davanti a uno sguardo in cui percepisco la mia infinità la mia incommensurabilità la mia immisurabilità rispetto a schemi precostituiti la mia non ammanettabilità immerso e immersi in uno sguardo che non ci definisce ci sentiamo liberi e accettiamo finalmente noi stessi con i limiti che abbiamo e la realtà anche quando è dura insomma perché ciascun adolescente fiorisca serve un'unica cosa l'amore che si sperimenta in relazioni amorevoli io l'ho scoperto con Andrea e sì perché tornato in classe triste dallo studio della preside cosa ho fatto? l'ho guardato e con un po' di tenerezza e un po' di ironia mi è venuto da dirgli Andrea non ti preoccupare farò di te un grande uomo con ironia eh e lui è andato al suo posto e si è seduto mesi dopo è venuto da dirmi che quella frase tenera e ironica aveva scavato in lui e aveva addestato in lui il desiderio di cambiare di migliorarsi di mettersi all'opera è diventato tra i migliori della classe un punto di riferimento per tutti i compagni e ancora per me lo è oggi e lo saluto ecco perché ecco perché allora sento l'urgenza di un cambio di paradigma nel modo di costruire la relazione a scuola e nel lavoro perché ciascuno possa essere intelligente e libero perché mi preoccupo tanto della ricchezza della fama degli onori e non mi preoccupo invece di farmi l'anima buona perché dentro uno sguardo libero e amorevole io posso ripercepire il mondo come dato a me in ogni istante come fosse nuovo per la prima volta buono per me solo così avremo l'energia per affrontare le sfide da cui siamo partiti solo se noi in primis viviamo di domande grandi di aspettative mai sazie solo così potremo invitare i giovani sul cammino della fioritura insieme a noi e li vedremo anzi li vediamo intelligenti e liberi perché voluti e amati e quindi creativi e responsabili solo così troveranno il coraggio di mettere al mondo dei figli e di prendersi cura davvero del pianeta insomma la fioritura di ciascun adolescente è la grande occasione per la fioritura del pianeta ciascuno di noi in fondo lo sa se quel ragazzo o quella ragazza che è stato è fiorito o è marcito o è ancora lì che attende di fiorire e allora possiamo tutti tornare con la memoria a quello sguardo in cui abbiamo trovato vita intelligenza e libertà e attenderlo ancora una volta domandarlo per noi ancora una volta quello sguardo perché nessun pianeta nessun successo nessun indice di crescita vale la fioritura di ogni singolo giovane che scopre se stesso la fioritura di ciascuno di noi grazie 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 grazie